Eccoci qui. Ciao a te. Super goal. Il ritorno è proprio per da. Fantastico. Continua. Stavo dicendo andremo a fare una 1v1 con platto ma dobbiamo finire almeno. Così ci sblocca l'altro personaggio dovrebbe essere il clastore del pisellone come c'è qua. Forse puoi dire questo per gli atteggi. Siamo un po' arrugginiti. Mamma mia che merda. La verità mi sa di prendere un po' di nove anni. Ma che tiro è? No. E' niente. Rispondi. Oh forse ma è dentro? Dentro? Non ci credo dai che cazzo. Sto gioco ti farà bestemmiare proprio questo motivo. C'ha una fisica che non lo so. No. Prendo se ti adatta. Non lo so. Non lo so. Questo è streee. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu tu tu. Perché che? Non ti resta 14.000. Chi è quello? I mattoncini. I pisellini. Aiuto. Oddio. Che c'è quello? U. 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 E va bene. Dovrebbe plot. Mamma mia. U. E poi dovrebbe stare due su peco. Però. Lo sta su PC. U. 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 Uca uca. U. Bonus. Hai infilato la palla nel cesto. Aiuto. La palla torna nel culo. U. 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 E le altre. U. 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 Uu. Ok Faccio così Oddio qualcosa Prendo quello Ok Ah Finta Finta Niente Ne volevi Invece Non sto Ah prendo quello Ma hai scultato Ma hai scultato Ma hai scultato Dai ma hai scultato Eh come stanno qui Dai ma sto gioco hai scultato come la merda Zee vabbè Zee vabbè Zee vabbè Parlo porus Vandam c'è Niente Ma ma porca troia Ma come fa il coso E' pizzetoso Non ce la fai Comunque Eh Giuro Giuro che stai facendo un boot boot Ok ma quando vai nel canestro Prendi pure la palla bonus assicurata Si Tiro l'unico Vabbè Vabbè Qualcosa blu in mezzo No 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 Oh 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 no E Volevi Vabbè Prendi pure la quale Ma hai scultato DEEE Ma ma facevano un cuore in patate Ma ma si è scultato Ma ma si è scultato Che cazzo Ma facevano 88.000 Oh 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 E qui mi sa che ci lasciamo il pene Oh 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 Sì, non si crede! No, è stato così e mi guardano il momento giusto! Bene bene, nuovo studente! Ti senti pronto a prendere le mie pelle? E' abbastanza complicato, ma mi sembra il tipo sveglio! A te! Livello casuale... Ci dissociamo da quello che può uscire... Fantastico! Io metto il castoro, tu vuoi il castoro oppure... No, io voglio avere l'unicorno... Del ciccione! Chi vincerà? Allora, io potrei fare questa giocata... Non sapevo che andava a 5 pochi... Non era questa la giocata... Ma moltiplicata po'... Che cazzo hai preso tutto? Sì, vabbè che cazzo! E' la fa! Lo scivolo imperioso! Guarda da il fondo ti vuole stuprare da... L'ho preso! Ok, stiamo a 39 e 25... Ok, ok... Il jaguarus... Guarda qui! Porco di... Eh, vabbè! Vabbè! Ma tu dici che è buono, non male, non male... No! Vabbè! Che cazzo il tiro hai fatto? M'hai superato! Nooo... Non posso vincere! Non posso vincere! Non so... Io ancora non ti posso battere... Io ho lasciato la testa estrema... Mannaggia la madre... Nooo... Nooo... Giuuuu... Nooo... E si inizia con una zero-platta... Mannaggia la madre... ... Seguiu molto! Adesso... Quella con señor... E si... Quella con sottotasse le prez andare... Quella con sottotro... Non come vedo. Seguiu, mer 6透영at... ...